... Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo ad Arezzo al nono congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti, mia compagnia Pia Covre, che è la segretaria del Comitato dei Ditti Civili delle Sex Worker. Diciamo sex work... ...la moderniamo un pochino. Tra l'altro ieri Pia è intervenuta spiegando le ragioni che comunque muovono questo comitato non soltanto a carattere italiano ma anche le vicissitudini che accadono all'estero. Io vorrei chiedere a Pia soprattutto le ricadute spesso paventate da alcuni partiti politici del legalizzare la prostituzione se sei d'accordo oppure no di queste ricadute soprattutto dal punto di vista legislativo. Ma c'è una grande confusione e credo che molta gente non capisce bene quando noi parliamo di rendere legale la prostituzione e di regolamentare la prostituzione. Si dice sempre che in Italia è già legale, sì certo, perché in realtà non è proibito prostituirsi, però poi in realtà nella pratica quotidiana ci sono tutta una serie di ordinamenti, ordinanze, regolamenti di polizia eccetera che impediscono di essere veramente libere di fare questa attività. La legge stessa prevede che tutta una serie di supporti di persone che potrebbero aiutarti come affittandoti una casa per esempio, in realtà viene criminalizzata. Quindi quando noi diciamo legalizzare intendiamo togliere tutto questo contorno di atti che sono considerati criminali, che in realtà un crimine non è perché chi mi affitta una casa non mi fa un crimine contro lo Stato, però di fatto criminalizza il mio lavoro. E quindi noi intendiamo legalizzare per sostenere che questo lavoro deve essere veramente libero, o almeno questa attività, questo mestiere come vuoi e deve essere messa in condizioni di non essere discriminata o di non essere appunto criminalizzata per farlo. Sulla regolamentazione invece quello richiederebbe una legge ad hoc, cioè una legge diversa che decida quale tipo di statuto si vuole dare a questo lavoro, se si vuole dare uno statuto, se si vogliono dettare delle regole per come farlo. E su questo non andiamo più d'accordo con tantissimi in Italia, perché io penso che riconoscere che questa è un'attività e darti il diritto di iscriverti all'Inps, ad esempio, quindi domani di pagare le tue tasse e di avere anche una pensione, sia la base minima da cui partire. E credo che possa essere lasciato anche alla volontarietà di chi vuole fare questo lavoro, perché se io lo voglio fare per due mesi magari lo faccio così in un momento di crisi, se lo voglio fare per vent'anni è ben diverso. Quindi quando si dice regolamentare io mi aspetterai solo una regolamentazione dello statuto dei lavoratori. Pensiamo per esempio a quello che ha dichiarato l'onorevole Salvini, è un po' come se si passasse da uno sfruttamento all'altro. Esatto, perché quella è una regolamentazione di tipo molto, direi fascista in realtà, perché è il tipo di regolamentazione che esisteva in passato, dove tu non sei più libera di svolgere la tua attività dove, come vuoi, con i tuoi tempi, ma all'interno di contesti organizzati dove altri gestiscono per te il tuo lavoro. E questo non va bene, perché allora io sono d'accordo se due persone lavorano nel proprio appartamento, due o tre persone, se due o tre persone, dieci, vogliono fare una cooperativa e mettersi un piccolo hotel, una cosa così, oppure se io voglio lavorare autonomamente andare a farlo in tutti gli alberghi d'Italia, ad esempio, cosa che oggi non si può fare con la legge che abbiamo. Quindi la legalizzazione è il riconoscimento che questa non è un'attività criminale e quindi rendere veramente completamente legale la libertà di movimento e di scelta autonoma. La regolamentazione è una cosa diversa, io penso che vada solo regolamentato nei termini di riconoscere lo statuto dei lavoratori di questa attività, di questo mestiere e metterli in condizioni di iscriversi al welfare, a tutto quello che ne consegue. Per il resto credo che non vada regolamentato, anzi che vada proprio lasciato il più libero possibile. vale a dire che si faranno delle zone in strada, c'è qualcuno che vuole lavorare comunque sulla strada perché non vuole avere spese o non vuole farlo provvisoriamente. I comuni decidano quali sono le aree, nei mercati si fa così, c'è pure il mercato ambulante. Se voglio fare la sex worker ambulante, mi si dica lì c'è un'area sorvegliata con le videocamere, illuminata, ci sono delle toalette, eccetera. Si può fare lì, senza dare scandalo in modo particolare. Oppure se io voglio farlo in casa, nessuno deve venirmi a dire dove lo voglio e posso fare. Se voglio mettere su un'attività, mi si dirà, beh, al limite tu queste attività le puoi fare dove si possono avere i locali, i ristoranti, le cose di divertimento che non disturbano i cittadini perché se mettiamo una piccola attività, tipo un club o cose di questo tipo, ma non può essere lo stato dei grandi bordelli o degli obblighi a farlo obbligatoriamente al chiuso o dell'obbligo di iscrizione o dell'obbligo del controllo sanitario tanto più che poi questo obbligo, ad esempio, che pensa uno come Salvini che dovrei avere io un certificato di buona salute ma non pensa che i clienti che sono quelli che portano a noi le malattie eventualmente, se non stiamo attenti, loro il certificato non ce l'hanno, allora sarebbe discriminatorio. Assolutamente, un'ultima domanda prima di terminare anche perché sappiamo che il congresso è quasi all'inizio, cosa pensi invece del lavoro dell'assistente sessuale che in alcuni paesi esiste e in Italia, ma ancora questa figura non c'è? Beh, in Italia però grazie ad alcuni attivisti in questo settore si sta cominciando a parlarne, è stato messo questo bisogno, questa richiesta all'ordine del giorno, credo sia stato anche già presentato un paio di disegni di legge, forse non è ancora in discussione, in commissione, però insomma speriamo che ci vada. Credo che sia una figura indispensabile perché è anche vero che il sesso non è accessibile per tutti e però tutti hanno diritto di avere una buona condizione di vita e di felicità per cui se per alcuni è necessario ricorrere a prestazioni e servizi di questo tipo credo che dovrebbero, come dire, non solo autorizzare che questo si faccia perché chiunque può farlo anche andando a pagare e scegliersi delle ragazze però, o dei ragazzi, parlando anche di donne, penso che dovrebbe anche essere un servizio per chi non può affrontarlo economicamente, è solo un servizio garantito da... Anche pensiamo... ...pubblica sanitaria. Sì, ma poi pensiamo anche appunto alle persone disabili che magari hanno il diritto all'affettività, esatto, esatto. Di persone che non hanno, non che non hanno i denari o non possono avere la famiglia ma di persone che hanno difficoltà di mobilità e di trovare i momenti di incontro. Quindi siccome fa parte del benessere avere una buona vita di relazione sessuale credo che sia un compito anche delle istituzioni aiutare affinché la gente possa raggiungere anche questo. Perfetto, io ringrazio Pia Covre qui dal nono congresso dell'Associazione Radicale di Certi Diritti ad Arezzo e seguiremo le vicende, insomma, che comunque le hanno portate in questi anni a dare visibilità a un settore che comunque, secondo noi, è molto importante, c'è sempre stato e va assolutamente a parlarne un po' di più. Sì, ma secondo me la parola fondamentale è che ognuno, nel suo piccolo, ogni cittadino e cittadina che pensa a questo tema, secondo me la parola è rispetto. Cioè un maggior rispetto per i bisogni della gente, quindi anche per il bisogno alla felicità sessuale e un maggior rispetto per le persone che fanno di questo il loro mestiere e la loro attività. Oggi lo stigma è fortissimo e questo ci impedisce di essere parte attiva anche nell'integrazione sociale. Grazie mille Pia, buon rispetto a tutti allora. Grazie. Grazie mille Pia, buon rispetto a tutti.